Buongiorno gentili telespettatori, benvenuti alla pagina sportiva di oggi. Capriamo con il calcio. C'è stato un importante colpo di mercato annunciato stamane dall'Ascoli che acquista a titolo temporaneo da Lecce Pablo Rodriguez, attaccante spagnolo classe 2001 originario di Las Palmas. Viene acquistato giovanissimo dal Real Madrid dove ha modo di esordire nella seconda divisione con la maglia del Castigia. Arriva in Italia proprio nel Salento dove in due stagioni e mezzo disputa 51 partite realizzando 8 gol tra cui 1 proprio la squadra bianconera il 2 marzo del 2022. Oltre a 5 assist in massima serie scende in campo 4 volte con esordio a Torino il 5 settembre scorso. A gennaio 2023 si trasferisce in prestito al Brescia con 17 presenze e 3 gol. Andrà dunque ad affiancare nel reparto offensivo forte Pedro Mendes. La squadra di Viali intanto prepara l'esordio in Coppa Italia di sabato al Bentegodi di Verona. Ed in serie C la Vispesero comunica di aver raggiunto l'accordo con il giocatore Thomas Ignacio Sosa per la risoluzione consensuale del contratto. Quindi ragazzo non è più un giocatore bianco-rosso. Ed il Comitato regionale Marche della Federcalcio ha comunicato poco fa i calendari di eccellenza e promozione. Si parte il 10 settembre alle 15.30 e vediamo la prima giornata del massimo campionato regionale. Atletico Azzurra Colli Monturano, poi la matricola Civitanovese riceverà il polisportivo L'Urbino. Molto interessante anche il confronto tra Caispor Montecchio Gallo e Castelfidardo con l'ambiziosa matricola pesarese che quindi se la vedrà con la formazione bianco-verde. Poi proseguendo nel dettaglio negli incontri della prima giornata avremo il Monte Granaro che riceverà il Montefano. Poi il confronto tra il Montegiorgio appena retrocesso dal campionato di Serie D e lo Iesi. Mentre interessante anche il derby, quasi una stracittadina tra Maceratese e Chiesa Nuova allo stadio Elvia Recina. Questa partita si giocherà alle 15.00. Poi per concludere la prima giornata del campionato di eccellenza il match clou forse San Giustese-Valdichienti-Ponte contro Tolentino ed Urbania-Osimana. E ricordiamo che tutte le squadre giocheranno di domenica con la Maceratese sempre alle 15.00. Mentre l'atletico Azzurra Colli disputa la prima gara del girone di andata sul comunale di Colli del Tronto dall'ottava di andata alla seconda di ritorno con inizio alle ore 15.00. Poi parleremo dei due gironi di promozione. Ora facciamo un break con il ciclismo. Stasera alle 22.00 trasmetteremo l'ampio servizio sulla Mare Monti, le Canati Pievettorina. 17.00 edizione vinta tra l'altro da un portacolori dell'Alma Juventus Fano, Giacomo Sgherri. Un evento importante per un territorio che mostra ancora drammaticamente le ferite del sismo. E sentiamo a tal proposito l'intervista di Luca Falcetta. Anche la giunta regionale, possiamo dire, il consiglio regionale è presente perché quando si tratta di entroterra, di sport, va sempre sostenuto il ciclismo. Perché il ciclismo è un biglietto da visita per questo territorio. Il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa conosce bene questo territorio, è stato anche sindaco di Camerino. È una realtà che va sostenuta. Anche lo sport può rappresentare il primo segnale con questo Mare Monti. Sì, intanto un grazie sincero, vero, al presidente dell'Unione Montana, nonché sindaco di questa bellissima comunità, Alessandro Gentilucci, perché lavora, il suo lavoro porta dei risultati importantissimi per questa terra. Prima di parlare di sport, vorrei sottolineare che attraverso lo sport oggi si ricorda un uomo, Luigi Gentilucci, del quale ancora si vedono tanti fatti che sul territorio sono stati portati avanti con un credo e con un cuore eccellente, ma anche con delle competenze importantissime. Io, giovane amministratore, ricordo sempre con piacere e lo vedo un po' anche come una guida attenta per l'allora presidente della comunità montana, Luigi Gentilucci, lottare in maniera reale, vera, senza mai polemiche, per questa terra. Una terra che mi ha dato anche la vita, dove ho le mie radici, e naturalmente oggi, da vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, apporto il lavoro per l'intero contesto regionale, guardando sempre in maniera attenta, senza mai dimenticare quelle che sono anche queste terre, che sono delle terre importanti per il turismo, per la cultura, per l'ambiente della nostra regione. Sono contento anche di avere qui vicino a me il collega Pierpaolo Borroni, con il quale condividiamo l'ufficio di presidenza, e questo lo dico perché dimostra pure un'unione reale e vera a vantaggio della popolazione. Importante è lo sport, lo sport salute, fisica e mentale per i nostri giovani, un appuntamento questo che va avanti da tanti anni, mi pare 17, sta a significare che non è tanto facile, o meglio difficile, iniziare qualcosa. È difficilissimo portarlo avanti nel tempo, sempre con successo, e questo è un appuntamento che ha sempre un grande successo. E torniamo ad occuparci di calcio con i due gironi del campionato di promozione, vediamo velocemente il quadro della prima giornata del Girone A, dove saranno in programma Mondolfo, Marotta, Osimo Stazione, Biagio Nazaro, Gabicce, Gradara, Castelfrettese, Valfoglia, Fabriano, Cerreto, Sant'Orso, Moglie, Vallesina, Pergolese, Fermignanese, Marina, Villa San Martino, Portuali, Calciancone, Vismara, contro Barbara, Monzerra. Mentre nel Girone B avremo Appignanese, Porto Sant'Elpidio, Atletico Cento Bucchi, Rapagnano, Aurora 3, Elpidense, Cascinare, Casette Verdini, Vigor, Castelfidardo, Monticelli, Potenza Picena, Palmenze, Matelica, San Giorgese, Monte Rubbianese, Corridonia e Trodica, Cluentina. Chiudiamo con una notizia di pallavolo. La schiacciatrice della Megabox, Ondulati del Savio, Vallefoglia, Alice De Gradi, è stata inclusa dal commissario tecnico Davide Mazzanti, tra le 14 atlete che prenderanno parte ai prossimi campionati europei in programma in Italia, Estonia, Germania e Belgio dal 15 agosto al 3 settembre. Le azzurre si raduneranno domenica a Verona per poi aprire la massima competizione continentale contro la Romania il giorno di ferragosto nella spettacolare cornice dell'Arena di Verona alle 20. Alice vestirà la maglia numero 2. Ed è tutto anche per lo sport. Grazie per la cortesa attenzione. Appuntamento a stasera. Grazie per la visione.